L'appuntamento è per il 15 settembre, Unicredit Runtunap, partenza alle 9.30 da Piazza Maggiore, la bellissima piazza grande, correremo in mezzo alla città, ci sono tanti chilometri di portici, quindi questa si potrebbe chiamare la mezza maratona dei portici. Alla fine c'è una piccola sorpresa, prima ci riposiamo, poi reintegriamo con un piatto di tagliatelle alla bolognese, pensate che ci saranno 15 sfogline che faranno le tagliatelle a mano per noi lì in Piazza Maggiore, 15 settembre 9.30 Bologna.